me la sono presa comoda per fare queste pagelle perché per smaltire questa ci sarà bisogno di un bel po di tempo ragazzi perdere in questo modo me fa sempre male soprattutto se stiamo preparando una partita in previsione dell'inter di una finale di coppa italia da metterci nel mezzo di una stagione che fino adesso è stata brutta e quindi se io penso che bene o male la juve potesse già essere in ferie a livello mentale per quanto riguarda la serie a manca un dettaglio mercoledì si gioca a roma e non vorrei che il pensiero fosse vabbè è solo la coppa italia no in questa stagione la coppa italia è molto di più della coppa italia parliamo di tutto max allegri voto 4 qualcuno potrebbe dirmi sì ma non è colpa sua se deciglio sbaglia la diagonale non è colpa sua se deciglio procura rigore non è colpa sua se ken sbaglia la porta vuota se ken sbaglia una marea di gol certo queste non sono colpe dell'allenatore indubbiamente però una partita come questa contro un genoa ragazzi modesto come questo va bene che la juventus poteva avere altri interessi di non strafare va bene che probabilmente alcuni cambi non gli avrebbe fatti in condizioni normali quindi senza la finale in testa va bene tutto ma tu non puoi non puoi non puoi non puoi non puoi andare a genova contro questo genoa fare un primo tempo senza occasione a gol se non colpo di testa di ken che va sopra la traversa tornare in campo andare in vantaggio non riuscire a chiuderla e perderla in quel modo nel finale cioè l'allenatore non può permettersi di fare queste cose è il primo colpevole sempre l'allenatore secondo me l'allenatore è sempre il primo colpevole il primo responsabile ragazzi quello che abbiamo visto ieri sera è inaccettabile mi spiace eh mi spiace poi magari ecco le dico l'inter diciamo 3-4-0 calcio spettacolo champagne io ormai a questo punto non ci credo più ma me l'aspettavo anche un po' nel post nella conferenza stampa pre partita mi avevo detto ragazzi da quello che ho visto o facciamo la goleada o perdiamo cioè non ci sarà una via di mezzo o vinciamo di tanto o perdiamo punto perché si era capito che questa partita di mezzo sarebbe semplicemente stata la partita da andare a giocare e ci sta che un tifoso la pensi così ma la Juventus queste brutte figure non se ne può permettere a maggior ragione in una stagione del genere a maggior ragione prima di una finale di Coppa Italia a maggior ragione se ormai questa partita era vinta e allora vincila portala a casa prendi questi tre punti non ce lo meritiamo un'altra figuraccia di questo tipo in questa stagione non ce la meritavamo e io prendo con filosofia quelli che mi dicono vabbè ma cosa te ne frega era una partita inutile sì ma ma è questa roba qua continua a dar fastidio io non vedere queste cose da parte della Juve io non le mando giù quindi secondo me quattro d'allegri Scesni sei e mezzo allora intendiamoci perché so come funzionano queste cose il primo che alla fine dell'anno mi dice eh sì però Scesni sai va bene ok però all'inizio dell'anno no fine quello lì non deve più venire fuori la stagione di Scesni altissimo livello alto che anche ieri sera ci ha messo del suo eh sul passaggio di Rabiot che la passa agli altri del Genua e ormai ci fanno gol nell'area piccola Scesni la para più altri interventi perché il Genua aveva solo da da guadagnarci da quella situazione e quindi ha tirato fuori gli attributi che aveva chiesto Blessini in conferenza stampa vorrei vedergli anch'io gli attributi mercoledì e vorrei che non si parlasse di Scesni come eh sì però iniziano no no finita lì eh Bonucci sei eh non ho niente da dire su Bonucci sei bi compitino penso di poter dire la stessa cosa per quadrato sono state due prestazioni quelle di Bonucci quadrato da sei da compitino perché davvero non che cosa devo dirvi su Rugani cinque e mezzo invece ve lo dico il giallo che prende veramente da Oca da Oca un Ocarone è stato perché fa un anticipo bellissimo poi perché tenerla ma scaricala hai già fatto di troppo sei il centrale fatto un anticipo recuperato il pallone giocala no andiamo in testa a dirci andiamo a fare la guerra la perdiamo deve deve fare fallo e prende anche il giallo un Ocarone un Ocarone Alexandro ha subentrato vabbè cinque e mezzo niente di spettacolare ragazzi ma è sempre quella sensazione che che di lì si soffrirà qualcosa poi qualcuno mi ha detto sì però perdiamo palla secondo me è anche un po' eccessivo parlare di perdita della palla è vero che poi sul contropiede prendiamo gol però perde palla praticamente al centrocampo ma a me urta la sensazione perenne di un giocatore che entra e non mi può dare niente e De Sciglio sarà squalificato mercoledì forse per fortuna ne parleremo Pellegrini non so se ci sarà ci sarà Alexandro titolare molto bene ecco su De Sciglio invece dobbiamo parlarne un attimo perché ragazzi 4 secco in pagella mi sono preparato perché De Sciglio prima stagione la Juventus 20 presenze seconda stagione 28 presenze terza stagione 13 presenze poi compirlo una presenza perché poi va a giocare in Francia con Lione quest'anno la quarta stagione la Juventus 28 presenze cosa significa che basterebbe una sola presenza per De Sciglio per battere il suo record di presenze in una singola stagione con la Juventus che cosa significa che se andati oltre il giocatore che è la riserva e ti fa quelle 20 partite all'anno proprio no qua se fa una presenza se ne fa due nelle prossime due che sono le due che può giocare probabilmente le farà avrà fatto 30 presenze in un anno secondo me un giocatore che dovrebbe farne circa la metà maglia Juve ieri sera procura un rigore al 96esimo pochi minuti prima sbaglia tutto sul gol si parla di rinnovo di De Sciglio io ho sempre detto al ribasso come riserva ci sta ma questi non sono più i numeri per una riserva De Sciglio in serie A quest'anno ha giocato 19 gare in Champions League ha giocato 4 gare in Coppa Italia ha giocato 4 gare in Supercoppa ha giocato una gara questi sono numeri da giocatore che sì non è titolarissimo ma è davvero un giocatore che entra molto spesso nelle rotazioni della Juve pensiamoci bene ragioniamoci bene 4 Rabiot voto 6 perché nel complesso la prestazione di Rabiot mi è piaciuta mi ha fatto tirare giù tutti i santi dal calendario su quella costruzione dal basso in cui passa la palla quelli del Genua se avesse assegnato il Genua avrei dovuto distruggerlo all'interno delle pagelle che è un errore gravissimo quello devi ringraziare Cesni che ringrazia Cesni e non è la prima volta la prima volta procura rigore poi Cesni lo para deve ringraziare Cesni fine dell'anno gli paga una cena Artur 5 sbaglia tutto quello che si può sbagliare tutto 5 secco fine Zaccheria non entra benissimo credo che 5 e mezzo sia il voto più adatto Miretti 6 e mezzo dispiace ecco Bonucci me lo ricordo sul fatto che ha chiesto il cambio per Miretti perché aveva i crampi esce Miretti cambia la Juve largo a destra non è il suo Max segnatela questa cosa qui no davanti alla difesa ancora ci fa vedere che è un bel giocatore con un bel piede con i cocones Vlaovic 6 perché le palle che ha giocato spalla la porta nel primo tempo tutte perfette palloni giocabili 0 a un certo punto di grinta di rabbia di forza vuole tirare in porta lo fa non è colpa sua se si è fermato in questo momento non gli arrivano palloni ragazzi non gli arrivano palloni per fare gol speriamo che gli abbia tenuti per l'Inter voto Vlaovic 6 perché lui nella lotta c'è sempre stato Paolo Di Bala voto 7 un gol col piede debole dopo un primo tempo anonimo come tutta la Juventus e un palo a giro col suo piede forte con la sua giocata esce di Bala si spegne la Juve perché era l'unico lì davanti in grado di creare qualcosa io sono un po' perplesso quando vedo la Juve e dico boh stiamo parlando di rinnovare Bernardeschi stiamo parlando di rinnovare De Sciglio mi ha rinnovato Quadrado l'unico che a fine anno non ha rinnovato è stato Di Bala neanche a ribasso neanche fargli l'offerta a ribasso sono un po' perplesso sono davvero un po' perplesso Moise Ken voto 4 non voglio essere troppo cattivo io ieri sera ho detto ha salvato il Genoa ragazzi occasioni Ken ne ha avute tante una porta vuota meno male non l'ho vista in diretta sono molto molto demoralizzato sono molto molto demoralizzato per la stagione che ha fatto Ken per la partita che ha fatto Ken per la stagione che ha fatto la Juve per la partita che ha fatto la Juve voto 4 Moise Ken poi vabbè ci sono alcuni subentrati come Ake, Bernardeschi, Morata senza voto perché troppo poco tempo per valutare troppe poche cose per Morata mette anche quel pallone per Ken ma vi hanno già detto sono un po' demoralizzato e infatti queste pagelle sono state molto corte perché avevo poco da dire perché quella di ieri è stata una Juve veramente vuota insipida senza sentimento questo mi dispiace e spero di vedere i cocones mercoledì perché mercoledì ci tengo è stato un po' demoralizzato è stato un po' demoralizzato quindi è stato un po' demoralizzato ecco a